Le mareggiate in atto negli ultimi giorni stanno creando nuovamente problemi, ma soprattutto danni in particolare sulla costa nord del comune di Alba Adriatica, già fortemente martoriata da questi eventi. L'erosione nel corso degli anni ha progressivamente ridotto, se non annullato, la fascia di arenile a disposizione di molte concessioni. Ma ora la situazione è ancora peggiore, visto che le mareggiate dei mesi invernali mirano le strutture balneari, che restano a forte rischio. La scorsa notte il mare in burrasca è entrato letteralmente all'interno di alcune strutture balneari, creando danni significativi. In uno in particolare la furia del mare ha rotto le vetrine, creando danni evidenti all'interno della struttura, peraltro già in passato toccata dal maltempo. E anche le protezioni provvisoriche, che sono state collocate in alcuni casi dinanzi agli chalet, non riescono, se non in maniera marginale, ad arginare la forza del mare, che soprattutto nella zona nord di Alba Adriatica crea enormi preoccupazioni. E mentre si contano i danni all'orizzonte, si attende l'avvio dei lavori della spiaggia di alimentazione. La maxi opera da 2 milioni di euro programmata dalla regione per la quale di recente è stata perfezionata la gara d'appalto. L'intervento, che prevede un ripascimento protetto da due pennelli sommersi, dovrebbe prendere avvio nei prossimi mesi, non appena saranno definiti gli aspetti di natura burocratica e operativa. Il tutto prima della prossima stagione estiva, con la speranza che il mare dia una tregua e che quello che sta accadendo negli ultimi anni non produca ulteriori danni, perché a rischio non è più solo la spiaggia, ma anche le singole strutture balneari. D'anni anche a Pineto, dove le mareggiate hanno scaraventato a riva pattini e barche e i massi messi a protezione sono sprofondati. A contenere la forza delle onde, per fortuna, c'erano ancora i cumuli di sabbia posizionati dal comune in autunno, che al momento hanno retto come barriera di protezione.